Dalla musica al cinema, il primo fu la commedia nero bifamiliare, ma per il secondo tutto ci si aspettava tranne un horror vecchio stampo che amica a Lamberto Bava e a Lucio Fulci. E invece Federico Zampaglione segue una sua vecchia passione e mollata la chitarra dei Tiro Mancino si presenta al Festival del Cinema Europeo di Lecce con Shadow, una pellicola splatter che non fa rimpiangere l'horror made in Italy, attesa nelle sale dal prossimo 14 maggio. E' violento, è un film dove c'è un utilizzo della violenza abbastanza incisivo, viscerale, nasce appunto da una serie di considerazioni e dal fatto che spesso nei film horror si raccontano storie di mostri, di fantasmi, di cose surreali e ci si dimentica che il vero orrore spesso è nella realtà, l'orrore è quello che fa veramente chiudere gli occhi. E quindi è nato anche un po' come denuncia verso una serie di cose, di fatti, orribili successi durante le guerre. Poi io dentro ci ho messo appunto il mio gusto anche proprio visivo, ho cercato di fare un film anche con dei momenti, diciamo di una sorta di psichedelia, se vuoi angosciante, no? Però è stato un lavoro molto bello artisticamente, molto anche creativo perché l'horror è un genere che si regge molto sulle atmosfere.